Educare i giovani al corretto uso dei mezzi di comunicazione, con particolare riferimento a internet e con i social network, la conoscenza e il rispetto delle regole sono state alcune delle tematiche trattate negli interventi istituzionali in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico svoltasi all'Istituto di Istruzione Superiore Petrucci Ferraris Maresca di Catanzaro, evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Universo Minori. Tra i relatori erano presenti il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, il presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Luciano Trovato e il capitano dei carabinieri di Catanzaro, Antonino Piccione. La funzione della rete è una funzione sicuramente di libertà, ma la libertà non può travalicare le regole che ci devono essere sempre, il rispetto degli altri, il rispetto della comunità, delle istituzioni. Allora è importante che queste regole vengono date innanzitutto dalla scuola, perché se questo è il mondo in cui vivono prevalentemente i ragazzi, è bene che i ragazzi sappiano controllare questo mondo, siano in grado di avere gli strumenti per poterlo utilizzarlo per fatti positivi e non farsi coinvolgere in vicende negative, diventare strumento di chi vuole prendere spunto da questo mondo universale, perché ormai unisce tutto, per andare a diffondere la cultura del crimine o altre culture come per esempio il bullismo che porta alla prevaricazione di un ragazzo su un altro ragazzo. Abbiamo questa responsabilità di formare dei tecnici, dei professionisti, non solo i licei, ma ci sono anche le scuole tecniche e professionali che vanno potenziate. Quindi ho voluto la presenza delle istituzioni, della presenza delle istituzioni che hanno accettato volentieri, tutti presenti per dire la scuola c'è, noi ci siamo, siamo dalla parte dei ragazzi e faremo di tutto a che la scuola possa decollare, nonostante le critiche, la buona scuola, la gente setta, ma quando si lavora con amore e i miei docenti lo fanno, sicuramente saremo vincenti. Oggi siamo qui per l'inaugurazione dell'anno scolastico, un anno lungo che vedrà coinvolte varie persone, i docenti, i genitori, il personale scolastico in generale e tutti con un obiettivo comune, la crescita delle nuove generazioni e più nello specifico della società intera.